Magari vuole a conoscere questo Comunque sono 32 kg Ognuno l'abbiamo pesante, no? Si Allora pesa ancora di più No, questo pesa di più, è 20 kg Lo stai sempre? No, no, siamo sui 21, papà Non è troppo pesante? No, per la superficie Eh, appunto, c'ha delle ali della madonna qua Vai, vai, sto registrando Com'è? E' abbastanza governabile Bello Questa è Per un posto Andiamo E' un posto Un posto E' 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 un posto la roba è da tanto palma, lo sai com'è? non ce la farei si ma questo è un volo proprio... ho che cavi no! ma dai tocca i cavi